ecco possiamo cominciare buonasera a tutti stasera abbiamo una persona che forse è un pochino diversa da quelle che di solito vengono a parlare con noi perché il dottor Marco Piccolo è un imprenditore un imprenditore un po' particolare è amministratore delegato della Reinaldi Cosmetici ambasciatore nazionale di economia civile delegato responsabile sociale d'impresa della Confindustria Piemonte il dottor Piccolo ha una laurea in economia 4 figli gestisce con la famiglia la Reinaldi di Pianezza che è specializzata nella produzione in conto terzi di un'ampia gamma di prodotti cosmetici questa impresa tiene conto della sostenibilità ambientale, dell'impatto sociale della ricerca, della solidarietà del lavoro come dignità per la persona, l'economia di comunione Reinaldi è un'impresa benefit che è un'evoluzione del concetto di azienda oltre agli obiettivi di profitto lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera quindi fra le cose in cui Piccolo si è impegnato la sua azienda è quella di un orario umano di una distribuzione dell'utile prodotto ai dipendenti e atto anche dei progetti sociali in collaborazione con altre associazioni il Cottolengo San Patrignano il gruppo Abele e poi c'è un'iniziativa particolare nel Burkina Faso ma quello che sottolinea noi l'abbiamo letto e l'abbiamo sentito in interviste quello che sottolinea è nessun assistenzialismo cioè questi progetti sono per insegnare il lavoro per dare opportunità allora a Marco Piccolo chiediamo di raccontarci come fare in termini di termini come sostenibilità dignità del lavoro economia di comunione eccetera un impegno quotidiano di impresa arricchito nel suo caso da un robusto credo cristiano il titolo della lezione che sta per tenerci è l'imprenditoria motore economico culturale e sociale al servizio del territorio gli faremo una serie di domande perché mi sembra ci siano tante cose che possiamo imparare e che possiamo farci spiegare da una persona che è sul campo in questi problemi prego dottor Piccolo grazie grazie dell'invito io sono Marco ho 47 anni 4 figli faccio l'animatore in parrocchi insomma poi mi ha già presentato se volete possiamo interromperci quindi in qualsiasi momento sia da casa che qua se avete voglia di fare una domanda vorrei più un dialogo ecco che una lezione io l'idea che ho è vi faccio vi presenterò l'azienda dal punto di vista proprio economico come una presentazione che potrei fare anche un cliente poi vi racconterò sempre nella presentazione che cosa applichiamo di sostenibilità e di etica in azienda e poi chiuderò la presentazione da lì se vogliamo approfondire possiamo anche approfondire il perché delle scelte aziendali imprenditoriali le scelte umane e vocazionali ecco quello però sta al vostro interesse a quello che volete io direi parto velocemente con una mini presentazione aziendale però qualsiasi momento tanto tu Massimo leggi se qualcuno da casa vuole interrompermi volentieri ecco ok benissimo la casa vedete spero di sì qualcuno sì ok perfetto andiamo avanti allora benissimo questo la Reinaldi vediamo ok mia madre prima laureata in Italia con una tesi sperimentale sui cosmetici nel 1980 apre un'azienda a suo nome dottore Serenaldi produce e vendeva poi nel 96 facevo il primo anno di economia e commercio la mia ragazza rimane incinta ci sposiamo mia madre mi mette a tenere la contabilità in azienda e da lì scopro che i negozi non marginavano abbastanza perché noi avevamo la capacità di vendere ma eravamo bravi a produrre e formulare per cui ci siamo dedicati al conto terzi vuol dire produrre per nome e conto di altri nel 2000 ci siamo poi spostati siamo partiti di fatto nel 96 con una persona sola su 60 metri quadri nel 2000 ci siamo spostati su 1000 metri quadri nel 2015 su 7500 metri quadri e a oggi nel 2016 siamo diventati una società benefit guardate a oggi facciamo 7 milioni e mezzo di fatturato di cui il 90% conto terzi investiamo il 13% di ricerca e sviluppo questa è la crescita cresciamo del 25% all'anno questo è il primo punto che poi approfondiremo dopo se volete essere sostenibili essere etici riuscire a trovare dei modelli di valore sociale e ambientale non è da sfigati esiste la possibilità economica di realizzare i modelli economici nuovi generativi ma che portano anche beneficio economico qua se volete poi lo dialoghiamo ecco questo se vi interessa poi altri numeri guardate l'occupazione c'è una persona sola l'anno scorso eravamo in 28 adesso qua c'è 52 in realtà oggi siamo già 59 cioè le presentazioni sono in continuazione e prendo dei manager dalle multinazionali che vengono a lavorare da me e rinunciano a quote di stipendi oppure di lavorare da me questo è un altro punto e tenete conto che le aziende piccole italiane l'80% aziende italiane che è la stessa struttura di quella tedesca in Germania l'80% sono managerializzate il problema delle aziende d'Italia è che sono padronali mancano manager perché perché non abbiamo il potere economico di prendere grandi manager che stanno nei multinazionali ecco io non li pago di più io non li pago ma loro trovano un valore che oltre a quello dei soldi e vengono da me e io cresco così tanto perché persone di eccellenza vengono a lavorare da noi tante certificazioni tanti premi prima società benefit italiana poi se volete approfondiamo sul perché ambasciatori dell'economia civile premio benelisario insomma va davanti innoviamo tanto cioè attenzione che alcuni modelli non confondiamo l'essere buoni con l'essere incapaci siamo molto esigenti investiamo il 13% in ricerca e sviluppo in media in Italia la media italiana è 087 investiamo tantissimo questa è mia madre noi sviluppiamo le formule i clienti vengono ci dicono devo fare una linea che vada in quel mercato in quel settore e noi sviluppiamo tutto partiamo da zero facciamo i campioni i test la stabilità tutto poi dopo andiamo in produzione abbiamo turbo emulsori poi facciamo il confezionamento e diamo full service il cliente riceve il prodotto che poi vende a suo marchio questa è una nostra linea dottoressa Renandi quella originale di mia madre ecco allora primo punto importante 2016 l'Italia è il primo pausa al mondo ad avere una legislazione sulle società benefit che cosa sono le società benefit? in realtà il modello precedente e quello attuale in vigore ancora dice che da una parte ci sono le profit che hanno come obiettivo quello di massimizzare gli utili per i soci quindi l'unico obiettivo che si dà ai manager è quello di massimizzare gli utili dall'altra parte abbiamo le no profit che hanno come oggetto sociale quello di avere ricadute positive sul territorio e sulla società ecco Porter che è un economista americano dice ci sono problemi irrisolvibili nel mondo la fatalizzazione la fame e altro e dice alcuni soggetti operano localmente le no profit ma sono ma sono soggetti non scalabili cioè non possono avere impatti sono sempre piccoli c'è la cooperativa sono sempre piccolini cioè i grandi impatti o le fanno le multinazionali che hanno dei numeri enormi altrimenti non ne usciamo ecco allora lui dice c'è un vuoto qua in mezzo ecco forse se le aziende profit iniziassero ad agire non solo per la massimizzazione dei profitti ma anche per avere una ricaduta sociale ambientale positiva potremmo risolvere i grossi problemi nel mondo faccio un paradosso faccio sempre questo è tecnicamente sbagliato ma per darvi un'idea nel 2050 ci saranno più pesci più pezzi di plastica negli oceani che pesci ok i tappi della Coca Cola sono in plastica vi potrei far vedere sulle isole ci sono delle isole piene di plastica albatros che muoiono perché mangiano la plastica ok abbandonata perché la Coca Cola non fa i tappi biodegradabili sapete perché perché gli costerebbe 0,01 centesimo in più e sapete perché non lo fa perché voi continuate a comprare la Coca Cola anche se i tappi non biodegradabili primo punto cioè le aziende oggi lavorano per il profitto vi dico una cosa che dice sempre Leonardo Becchetti che ha aperto anche un sito i on buy cioè noi consumatori siamo i responsabili perché quando acquistiamo eh o col col non acquisto possiamo orientare le scelte del delle aziende se da domani nessuno comprasse la Coca Cola finché non cambia i tappi nel giro di un mese la Coca Cola cambia tutti i tappi anche l'alluminio sì poi poi c'è possiamo discutere esattamente però quello che è importante capire che ha oggi ancora tantissimi la maggioranza nell'economia politica quella di Porter e le gli obiettivi aziendali sono solo quelli di massimizzazione del profitto in Italia c'è questa certifica questa legge che dice se le società profit cambiano lo statuto e dentro lo statuto dove c'è l'oggetto sociale aggiungono anche degli obiettivi sociali e ambientali di miglioramento diventano delle società benefit per cui Reinaldi e Reinaldi SRL SB non c'è vantaggio economico non c'è vantaggio fiscale ma un riconoscimento a oggi naturalmente si sta già ragionando dicendo se lo Stato bandi di gara o appalti a parità di condizioni prediligessi le società benefit potrebbe avere quelle ricadute sociali che lo Stato dovrebbe fare ma non riesce a fare e le fa fare attraverso le aziende chiaro attenzione che società benefit è diverso da B Corporation voi sovente sentite le B Corp B Corp è un certificato un bollino di un'associazione americana molto simile come idea però le B Corp è una certificazione americana paghi 2500 euro ti fanno l'assessment e se hai le condizioni ti danno il bollino società benefit invece è uno Stato giuridico legale italiano e casualmente non casualmente però con orgoglio l'Italia è stato il primo paese al mondo ad avere questo e noi giugno 2016 siamo stati la prima società benefit in Italia a oggi ce ne sono 160 vedete che l'unica nel settore beauty siamo noi attenzione essere una società benefit lo dice la commissione europea la sostenibilità e le azioni sociali migliorano le performance aziendali fino al 10% certificato e se volete vi spiego anche il perché per due grosse ragioni la prima è che oggi i dati statistici dicono che il 75% dei consumatori sono attenti ai temi di sostenibilità in fase d'acquisto e sempre di più il fatto che i più sensibili sono i giovani che non hanno un grosso potere di acquisto ma è normale che i giovani poi diventeranno consumatori e vanno a potere d'acquisto e quindi sempre di più i consumi saranno orientati in quest'ambito e le aziende che non lo capiscono chiuderanno le aziende che non capiscono la transizione economica ecologica chiuderanno il mondo sta cambiando fortemente dal punto di vista legislativo vedete quello che con la copp e tutti gli orientamenti da commissione europea i consumatori che tirano le imprese perché inizieranno a scegliere in maniera consapevole dall'altro punto la finanza la finanza si è mossa velocissimamente e per cui ad esempio noi su Torino stiamo facendo una valorizzazione dell'intangible di sostenibilità delle imprese dentro il rating bancario cioè le banche non guardano soltanto più il bilancio di fine anno i numeri economici ma guarda anche la sostenibilità delle imprese e chi non sarà sostenibile non avrà accesso al credito bancario o ai finanziamenti in 3-5 anni il mondo sta cambiando velocemente vi faccio un esempio una grossissima azienda italiana che faceva scale antincendio non è stata finanziata da una delle principali banche italiane perché aveva vinto un bando di gara per le scale antincendio dei pozzi per trivellare l'artide e non gli hanno dato i finanziamenti per ampliare la produzione per fare le scale perché quelle scale lì sarebbero andate sui pozzi che trivellavano l'artide capite veramente il mondo sta cambiando e hanno perso fatturato chiaro cioè il mondo sta veramente cambiando bisogna pensare che è velocissimo questo cambiamento e come in tutte le rivoluzioni ci saranno vincitori e vinti morti e vincitori e bisogna orientare questo cambiamento come confindustria dobbiamo farlo in maniera sostanziale e di valore economia civile non so se conoscete che cos'è vuoi massimo che dica due parole io sono ho vinto il premio l'anno scorso come Reinaldi per quello che facciamo e quello che vi racconterò quello che mi interessa è raccontare e io sono ambasciatore dell'economia civile AIPEC è l'associazione delle imprese di economia civile e sé che la scuola di economia civile c'è Luigi Nobruni Zamagni Becchetti è molto bello perché c'è teoria e pratica e sovente facciamo gli incontri assieme dove c'è la parte teorica di magari un professore e poi nostra delle aziende Chiara Lubic Movimento dei Focolarini vede mentre doveva atterrare Rio de Janeiro il suo aereo Ceracoda per cui gira un po' su Rio lei vedeva le case bellissime e appiccicate le favelas e dice questo è un mondo diviso allora dice come possiamo realizzare un mondo che abbia un valore condiviso su tutti e allora prova a teorizzare questa idea di un'economia nuova prende Luigi Nobruni che era un giovane studente e lo fa studiare e dentro questo rinnovamento di mentale che cosa scopriamo? Luigi No lo racconta sempre che la prima cattedra di economia al mondo è stata in Italia 1743 a Napoli ok d'Antonio Genovesi che parlava di economia civile parlava di economia al servizio della comunità parlava di un'economia in cui c'è fiducia reciproca che si lavora insieme peccato che era in italiano nessuno l'ha seguito tanto 22 anni dopo in Scozia Adam Smith teorizza la teoria dell'economia politica quella che funziona oggi omo ominis lupi ogni uomo è un lupo per gli altri uomini non mi fido massimizzo l'utile per me non guardando in giro poi non so possiamo parlare di Ford possiamo parlare di tutto quello che è stato l'evoluzione in cui l'idea era io massimizzo il mio profitto tanto c'è una mano economica che poi rimette a posto tutto ricco è ricchissimo si comprerà cento paia di scarpe per cui i soldi arriveranno anche al calzolaio che anche lui diventerà ricco e l'economia agia in realtà si è visto che questo modello non funziona questo modello crea dei disequilibri sociali pazzeschi primo punto secondo punto gli squilibri ambientali cioè non c'è una teoria economica che tratti le variabili ambientali come variabili cioè si pensa che siano tutti invariabili boschi infiniti pesci infiniti acqua infinita quando invece in realtà oggi scopriamo che le risorse ambientali sono scarse e limitate tenete conto ci sono dei grafici che dal dal 1900 al 2008 per ogni per ogni aumento di un punto di pil i costi delle commodity decrescevano dallo 0,5 eh da 2008 a oggi invece il trend poi oscilla sulle se vedete durante le guerre gli shock va bene ma la lina tendenza era in discesa di colpo dal 2008 oggi per ogni punto di aumento di pil c'è un aumento di punto delle commodities perché? perché c'è scarsità e lo vediamo ancora oggi ma oggi io la mia azienda nell'ultimo anno abbiamo avuto aumenti anche del 30 40% 50% delle materie prime ok e qui nasce anche se volete l'economia circolare cioè invece di andare in miniera a zappo prendo il metallo faccio la macchina a fine vita la macchina la cartoccio la butto e torno in miniera a zappare forse è meglio iniziare a ridisegnare design thinking la macchina all'inizio tale per cui la prendo la monto a fine vita la smonto la divido facilmente per smontarla facilmente devo averla pensata smontabile e l'alluminio il metallo invece di buttarlo via e tornare in miniera la riutilizzo ecco tutto questo economia circolare che si sta lavorando tantissimo per tornare sull'economia civile quindi i punti sono variabili sociali e ambientali tenete conto che la sostenibilità poi c'è una scheda quando parliamo di sostenibilità la sostenibilità non è quella ambientale quando l'azienda vi dice ah io sono sostenibile perché questo è una flacone in pieti reciclabile una cavolata la sostenibilità è solo quando contemporaneamente gli aspetti sociali ambientali ed economici sono sostenibili se anche ne manca solo uno non si è sostenibili è per questo che ai miei amici del terzo settore dico voi non siete sostenibili perché? perché ci sono tantissime associazioni tantissime attività parrocchiali che dicono ah noi facciamo del bene però non ci danno soldi e no ragazzi e no non siete sostenibili economicamente chiaro come le aziende guardano solo l'aspetto economico non si davano non si occupavano delle parti sociali e ambientali ed erano sbagliate economia politica così il terzo settore che si occupa soltanto degli aspetti sociali dicendo datemi soldi non funziona più il modello per cui le aziende fanno profitto a tutti i costi facendo morti e feriti tanto dall'altra parte ci sono le associazioni che con una mano mettono i cerotti sui feriti e con l'altra chiedono i soldi dello Stato non funziona più il modello di Bill Gates che si è arricchito pazzescamente e adesso da soldi filantropia non funziona non è un modello sostenibile il gratis non funziona bisogna vi racconterò alcuni esempi di modelli invece sostenibili veramente dell'economia civile vi vorrei ancora parlare non so se vi interessano questi temi dell'economia civile vorrei parlare invece del bene comune ok che cos'è il bene comune questo è importante che lo capiate le teorie economiche anzi il diritto fino a oggi dice l'inviolabilità della proprietà privata tutti i fondamenti giuridici si basano su questo ecco in realtà ci stiamo accorgendo che il bene comune ha un valore superiore a quello privato che cos'è il bene comune facciamo un esempio c'è l'alpeggio in montagna dove tutti i vaccari portano sulle vacche a passare l'estate e a mangiare sull'alpeggio ma l'alpeggio è limitato allora se l'interesse personale è superiore a quello comune ogni vaccaro avrà interesse a portare una mucca in più così fa più latte così guadagna di più peccato che se tutti fanno così portano su troppe mucche e l'alpeggio si desertifica e non c'è più l'alpeggio per nessuno allora è la cura che ognuno ha del bene comune che permette la sostenibilità nel tempo chiaro? mentre noi invece a oggi abbiamo saccheggiato il bene comune in realtà molti economisti adesso anche la politica non ve lo dice ma l'aumento dei costi dell'energia l'aumento dei costi delle materie prime è fisiologico perché noi quando facciamo qualcosa dobbiamo tenere conto delle esternalità negative cioè le ciliegie che arrivano due settimane prima in Italia delle ciliegie italiane che arrivano dal CIL arrivano in aereo hanno degli impatti ambientali di emissioni CO2 pazzesca e chi le paga? nessuno le paga l'ambiente infatti la proposta a luglio 2000 di quest'anno della Commissione Europea è dire metteremo la compensazione carbonica cioè quello io metto CO2 effetto Serra ok la devi compensare ci sarà qualcuno che pianterà degli alberi e ti venderà i suoi crediti e quindi le ciliegie non costeranno più un po' di più di quelle italiane costeranno 20-30 volte di più perché oggi invece costano così poco perché le esternalità negative vanno nel bene comune e noi inquiniamo deforestiamo e distruggiamo il resto chiaro? allora magari torneremo a consumare un po' più localmente a fare più attenzioni quindi il bene comune diventa principale però fin tanto che la legislazione proteggerà prima il bene personale rispetto a quello comune comunque ci sarà da discutere anche in quell'ambito lì legislativo se avete interesse andate sul sito dell'IPEC dove le imprese cercano di trovare una nuova economia quello che adesso vi racconto io insomma e vi racconto della mia azienda allora andiamo avanti vediamo un po' se ok tutto quello che le aziende fanno vi raccontano noi siamo una persona un'azienda che fa agendine e inquina e fa di tutto poi fa una sola agendina sostenibile in carta reciclata fatemene e dice guardate che bello noi siamo sostenibili si chiama greenwashing cioè una pennellata di verde falsità e se questa agendina super sostenibile è meno dell'1% di tutto il fatturato che poi faccio non posso dire io sono questo ok allora è importante pesarsi questo ad esempio il Global Compact delle Nazioni Unite di cui Reinaldi è membro fondatore è un sistema di valutazione sugli SDG sapete che SDG sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile che nella COP16 nel 2016 a Parigi i politici hanno definito cioè povertà riscaldamento cura dell'acqua ad esempio nel riscaldamento l'obiettivo era quello di mantenere l'incremento fino a un grado entro il 2030 l'abbiamo già sforato però c'erano degli obiettivi cioè rispetto agli obiettivi che ci siamo dati sulla povertà sulla parità di genere allora potersi misurare potersi valorizzare è importante perché dire io sono bravo è un conto andarsi a valutare vedete ad esempio sulla non so consumo dell'acqua guardate la nostra azienda a questo punteggio 44 questa è la media nazionale delle aziende italiane questa è la media di settore e questa è la media per dimensione guardate le nostre performance queste sono numeriche ok attenzione alle persone che dicono noi 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 vediamo i numeri facciamo i seri perché puoi raccontare la storiella che noi facciamo questa agenda bella attenzione perché molte aziende oggi sono fanno molto greenwashing perché perché io vi dico che la mia azienda è super sostenibile la nostra agenda è super sostenibile così voi comprate questa mia agenda e sappiate che recentemente c'è stata una sentenza di una tribunale di Gorizia che è già condannato per farsa comunicazione greenwashing in un'azienda ok inizieranno su questo quindi attenzione non dobbiamo essere neanche all'occhi ma si dice siate prudenti siate candidi come il Colombe ma furbi come i serpenti cioè non siamo degli all'occhi eh ragazzi ok quindi anche la valorizzazione e la valutazione delle imprese è importante novembre 2021 quindi adesso la commissione europea ci ha identificato come best practice europea per la sostenibilità c'è un documento della commissione europea che dice e poi molto più approfondito questa è solo una scheda che dice che Reinaldi ha delle politiche di sostenibilità e insomma è bellissimo questo insomma un riconoscimento eh va bene ecco vi faccio vedere questo abbiamo investito sulla 4.0 quindi innovazione tecnologica perché l'ho messa qua dentro perché è quello che vi ho detto prima si è sostenibile quando contemporaneamente ci sono i tre elementi quello sociale ambientale ed economico un'azienda che dice siamo buoni ma poi in fallimento non innova non margina un mio amico di economia civile buonissimo bravissimo mi dice io non ho i soldi per pagare gli stipendi vorrei dare gli utili ma non ce li ho vorrei assumere ma ma non ce la facciamo ecco allora l'imprenditore ha anche il dovere morale e sociale papà lo diceva cioè l'impresa ha l'obiettivo cioè è l'unico motore di crescita economica è un valore sociale se noi ci sono le aziende noi qua chiudiamo tutti terzo settore le scuole qualsiasi cosa è pagato dalle tasse delle imprese e quindi essere imprenditore è importante fare imprese è importante dipende come la faccio naturalmente e quindi anche innovare sulla ricerca e sviluppo sul far sì che l'azienda sia di eccellenza è fondamentale cioè il mio amico che fa bulloni e mi dice Marco io non riesco per pagare gli stipendi licenzo le persone prendo le cooperative mi piacerebbe fare come te e sì però suo nonno faccia bulloni suo pa faccia bulloni lui fa bulloni dice maledetta globalizzazione i cinesi ci fanno il bullone eccetera ma sei posso dirlo uno stupido siamo in Italia la cultura studia brevetta fai dei nuovi bulloni un altro mio amico fa questi bulloni per montare questi pannelli verticali sono tenuti dai bulloni orizzontali li ha brevettati lui adesso vende dei bulloni e dieci volte il valore dei bulloni questa è l'impresa italiana questo Olivetti perché Olivetti riusciva a fare tutto questo welfare perché aveva inventato il computer allora se noi abbiamo una classe dirigente di compi indusa di imprenditori incolti senza cultura che non innovano che non hanno stimoli sono destinati a chiudere ok quindi anche la ricerca del miglioramento aziendale è dignitoso è importante sicuramente non deve essere fatto a scapito delle persone dell'ambiente ecco ad esempio che cosa facciamo alla sostenibilità ambientale noi il 97% dei rifiuti li recuperiamo riciclati ok siamo quasi zero carbon footprint siamo abbiamo fatto un sistema del recupero delle acque di produzione per cui siamo a zero spreco d'acqua e abbiamo i pannelli fotovoltaici siamo quasi a zero emissioni CO2 l'ora quando fa uno shampoo da 200 ml consuma 9,6 litri d'acqua nella fase di produzione non siamo a zero spreco d'acqua ma questo non vuol dire spendere di più perché ad esempio i rifiuti io ho un centro di riciclo vicino a noi a 500 metri mi danno le bende cassoni metallici io gli metto cartone vetro alluminio e plastica lui viene gratuitamente li ritira mi dà il certificato di riciclo ok poi io sono andato in comune ho detto scusate l'Atari è una tassa è un servizio servizio di smaltimento rifiuti io non butto via più niente e ogni anno risparmio 8 mila euro quindi essere sostenibili non è vero che costa di più l'acqua ho speso 70 mila euro per l'impianto dell'acqua ma io adesso risparmio sul consumo delle bollette dell'acqua io in 5 anni ho già recuperato un investimento dal sesto anno ci guadagno pannelli fotovoltaici me li hanno installati io per 8 anni compro energia elettrica al prezzo dell'anno scorso che è già vantaggioso prezzo fisso dell'anno scorso e dopo l'ottavo anno mi regalano gli impianti e io dall'ottavo anno al venticinquesimo finché non finché non si distruggono ho energia gratis ma chi è lo stupido che non fa queste cose non è vero che essere sostenibili costa di più ci vuole intelligenza bisogna studiare ci vuole ingegno abbiamo bisogno dei giovani che si specializzino con competenza e poi abbiamo tantissimi progetti di economia circolare cioè soprattutto fai fai cura soprattutto noi usiamo il waste gli scarti delle filiere alimentari tipo le viti a fine produzione le mandorle tutte le catene di fornitura delle filiere alimentari che poi alla fine hanno degli scarti quello attraverso dei brevetti li recuperiamo e diventano materie prime cosmetiche poi vi racconto un progetto sulle mele bloccatemi e se mi interessa questa invece sostenibilità vi ho detto la prima ambientale prima economica innoviamo due ambientale e vi avevo raccontato qualcosina terzo sociale allora che ad esempio piccole cose ma l'acqua al caffè tutte le bevande in azienda sono gratis non trovo giusto che uno lavora e deve pagare per un caffè laviamo le divise una sciocchezza alle 5 chiudiamo 4 e mezza la produzione chiude e alle 5 chiudono gli uffici e finché ce la farò voglio fortemente che rimanga così perché io voglio che le persone vanno a prendere figli a scuola e vadano a correre si leggano un libro e anche questo aspetto sociale del fatto che io sono educatore dei giovani se noi lasciamo i ragazzi a casa fino alle 9 di sera di fronte a un computer ma come li educheremo allora c'è bisogno di un tempo di famiglia in cui genitori stanno insieme ai ragazzi di qualità ecco e allora per me mandare a casa ai genitori alle 5 è un valore sociale ok e un'altra cosa ho messo alcune cose e noi dentro il nostro scelta aziendale con mia madre e mio fratello abbiamo deciso che quando c'è utile un terzo viene capitalizzato rimane in azienda un terzo va i soci e un terzo va i collaboratori per cui quest'anno più di 200.000 euro divisi tra tutti alcuni operani da 5 a 7 mensilità hanno lo stipendio hanno gli straordinari hanno il premio di produzione che è un accordo sindacale e poi se ci sono utili li dividiamo ok ma io sono gottetto io potevo comprarmi una Ferrari con quei 200.000 euro ma a me non frega niente a Ferrari non c'è l'orologio non ho cioè io sono più il problema è che cosa mi rende felice che cosa cerco allora cerco che se noi insegniamo ai giovani che il successo è avere la macchia avere i soldi che altro loro vivranno per quello sprecheranno la loro vita in quella direzione lì per scoprire poi che sono profondamente infelici io conosco tanti imprenditori anche molto importanti ma sono posso dirlo degli sfigati non dormono la notte pieni di ansie profondamente infelici poi vedete l'esterno sembrano persone imprenditori di successo umanamente della gente infelice profondamente infelice allora che cosa vogliamo dire ai ragazzi quelli sono i nostri modelli perché li stiamo indicando la direzione sbagliata questo se volete poi ne dialoghiamo dopo non so decidete voi e poi che cosa facciamo cose esterne no ad esempio qua ci sono più o meno 10.000 12.000 pezzi di shampoo bagno e schiuma li doniamo a tante associazioni ecco ma questo modello è filantropico faccio dei prodotti te li regalo a casa di oz al sermica al gruppo a bele ok va bene questo è un modello vecchio lo faccio perché degli amici mi dicono senti dobbiamo fare questo questo mi sono dei poveri ok quanto vuoi ti do tanto io faccio 100.000 pezzi al giorno ti do mille pezzi duemila pezzi non è quello un problema ma sono modelli vecchi non possiamo funzionare in questa maniera vi racconto che cosa abbiamo fatto questi invece sono i progetti con le associazioni con cui abbiamo fatto dei progetti che secondo me sono questi progetti del futuro allora ad esempio Burkina Faso 2013 una suora amica di mia mamma che è missionaria Bobudilasso dice ci mandi giù dei soldi e mi ha detto no dobbiamo fare un pozzo no ci viene fare un pozzo no perché io vengo giù faccio il pozzo poi torno a casa dopo sei mesi mi richiami dici il pozzo è rotto te lo torno giù i soldi fai qualcosa e poi non funziona non è sostenibile perché te lo do poi finisce allora abbiamo detto senti tu giù devi avere il burro di karité sono tipo castagne se riesci a prendere lavorarle c'è anche il video nel sito andate a vedere sul sito dottoressa Renali le lavori tutto mi fa il burro di karité con cui io qua in Italia faccio delle creme invece che comprarlo in Italia lo compro da te e naturalmente noi non glielo compriamo al valore locale lì ma lo compriamo al valore italiano che è 10-15 volte il valore locale e invece per me è indifferente perché se io gli regalassi i soldi te lo regalo una volta due volte tre volte poi non è sostenibile nel tempo mentre io invece compro burro che comprare lo stesso in Italia ma lo compro da loro allo stesso prezzo e quindi per me è sostenibilissimo ma è 15 volte il valore locale l'oro e oggi 25 donne mantengono 25 piccole comunità poi siamo andati giù io mio fratello e mia madre questo è mio fratello questa è mia madre e abbiamo portato dei macchinari e abbiamo insegnato a produrre cosmetici localmente quindi c'è il doppio sistema in cui noi acquistiamo materie prime e li finanziamo non regalando nulla dall'altra parte loro producono e vendono sul territorio cosmetici e funziona capite? questo invece è il gruppo Abele Don Ciotti siamo amici lui ha problemi con le comunità adesso non sto a raccontarvi tutto brevemente sui terreni confiscati alla mafia nelle comunità di recupero i ragazzi in fase di recupero coltivano le erbe officinali che è un lavoro facile non troppo faticoso con quelle erbe io gli faccio l'ina cosmetica che che gli vendo non gli regalo gli vendo a un euro un euro cinquanta che è il costo del packaging gli regalo il tempo gli regalo la formula gli regalo la produzione però almeno mi copro i costi del packaging e lui con quello quando vende non solo fa autofinanziamento ma per ogni pezzo che voi comprate generiamo dignità di lavoro e lavoro per i ragazzi in fase di recupero questo è sostenibile perché lui può anche dirmi fammi centomila pezzi e io li faccio li facessi gratis e li faccio una volta due volte due volte poi mi dice Marco fammi cinquantamila pezzi e no cinquantamila pezzi è troppo chiuso e ora sono sempre modelli piccoli che non scalano perché? perché c'è il dono ma il dono è piccolo e non può scalare e non è economicamente sostenibile questi sono modelli da abbandonare non funzionano più questo ad esempio va bene pace futuro un'associazione a Biella che ospita i migranti io faccio cosmetici quindi più o meno un modello è sempre quello cascina caccia terreno confiscato dalla mafia questo è molto bello Bieppi sono ragazzi down con il loro miele gli faccio la linea al miele poi ragazzi perché per questioni anche legislative perché bisogna fare le cose fatte bene quindi produciamo noi inflaconiamo noi perché loro non hanno le autorizzazioni ma poi loro mettono le etichette li astucciano capite? e devono astucciarli bene etichettarli bene e poi quando comprate questi prodotti buonissimi a un prezzo buonissimo perché di fatto io li do a prezzo di costo generiamo lavoro dignità a quei ragazzi che costano allo Stato vengono mantenuti qua hanno un lavoro e vengono pagati ok questo è Casa do Menor Don Don Renato che è un missionario in Brasile questo è San Patrignano gli abbiamo fatto all'ina con le loro materie prime adesso gli faremo un laboratorio così le ragazze in fase di recupero anche loro imparano a fare cosmetici ultimo progetto mio figlio che si è studiato all'estero per quattro anni torno in Italia prendiamo gli scarti delle mele a Barge un piccolo paese vicino a Cunio fanno succhi di mela con gli scarti delle mele attraverso un brevetto diventa una materia prima cosmetica e facciamo delle creme si chiama Antcare se andate online lo trovate è una start up che è nata da qualche mese quindi economia circolare della materia prima la nostra produzione è quasi a impatto ambientale zero packaging super sostenibile il picking cioè quando voi avete fatto un ordine la scatola la preparano i ragazzi della cooperativa della cooperativa dalla stessa parte così voi apriete la scatola e c'è il biglietto quel ragazzo che dice grazie al tuo ordine io oggi ho lavorato capite come possiamo impattare e quel ragazzo lì invece di essere un costo per lo Stato ha il lavoro ha lo stipendio ma ha dignità ha il valore umano della dignità del lavoro che dà senso alla vita capite la questione differente e poi che cosa facciamo prendiamo le cooperative di svantaggio sociale estossici e sercolizzati e facciamo maltenzione e cura delle aree boschive intorno a Barge e sapete cosa facciamo generiamo crediti CO2 che vendiamo sul mercato secondario perché un bosco manetenuto genera crediti CO2 che poi vendiamo a chi inquina e sapete quindi con ad esempio il progetto Antcare noi quando voi comprate una crema di solito a oggi tutti i prodotti hanno esternalità negative di inquinamento con Antcare è il primo prodotto forse al mondo che invece migliora l'ambiente e migliora la società perché quando voi comprate un cosmetico facciamo utili un profitto onorevole Cutrugli 1473 era un mercante di Firenze che parlava proprio dell'arte della mercatura diceva un profitto onorevole noi dobbiamo arrivare a quello perché il profitto ci vuole per pagare persone per investire per fare ok un profitto onorevole ma che genera impatti ambientali buoni quindi boschi migliori economia circolare quindi invece che buttare gli sprechi di rivalorizziamo impatti sociali i ragazzi down che fanno il picking i ragazzi in vantaggio sociale che fanno cura del verde wow si può fare si deve fare ma ci vogliono menti nuove ok mi sa che ho finito poi qua c'è il mio se volete su linkedin scrivo tanto quindi se volete poi collegarvi leggere qualcosa insomma questo più o meno è una breve presentazione non so se era quello che volete dell'azienda poi se volete approfondire i temi umani oppure aziendali quello che volete direi che questa è stata un'esposizione vulcanica che ci ha lasciato in parte senza fiato la domanda che viene subito è come si fa perché gli altri non lo fanno perché non studiano perché non c'è questa perché non c'è questa cultura come si può esportare tra virgolette nel senso questo questo tifo perché detto da lei sembra tutto una cosa così logica che che deve essere possibile fare perché rende perché non perché va bene ecco che cosa manca lei ha detto prima che probabilmente la classe imprenditoriale manca cultura Olivetti lo diceva l'impresa è lavoro è cultura se non c'è lavoro non c'è cultura non c'è impresa il primo punto è questo io sono nato in parrocchia il mio prete è fantastico il mio padre spirituale che è veramente un vulcano ecco non eravamo scato ma facciamo le imprese facciamo di tutto io sono nato e vivevo in parrocchia tant'è che quando ho scoperto che la mia ragazza era incinta io ero settimana vocazionale valdocco per capire se devo diventare prete ecco quindi io ho una forte vocazione poi appunto mi sono sposato perché la mia ragazza era incinta è nato Simone e lì ho iniziato a lavorare nell'azienda di mia madre ed era il primo anno di economia ho lavorato per tre anni in contabilità in un sgabuzzino senza finestre a far contabilità intanto vedevo i numeri e poi dopo e studiavo la notte tornavo a casa alle otto e mezza di sera cenavo e poi fino all'una alle due di notte studiavo tutte le sere e in otto anni mi sono anche lavorato in economia quindi in ordine sparso ma abbiamo fatto poi tutto bene matrimonio figli e laurea però in ordine sparso la prima questione è che io lo dico sempre posso dirlo aspiro alla santità e per aspirare la santità c'è bisogno di ascesi cioè tutti curano il corpo e poco lo spirito io tipo vado tre quattro volte all'anno in monastero a fare un po' di silenzio chiarirmi le idee però per ascendere ci vuole unità di spirito l'etimologia di diavolo e di avallo di visione allora io vedevo questi imprenditori che venivano in parrocchia a noi perché il nostro parrocchio era vulcanico quindi attirava tantissime persone vedevi degli imprenditori di successo che venivano in parrocchia a far servizio a fare i catechisti così erano buonissimi fantastici poi l'unità entravano in azienda e diventavano delle bestie terribili e io mi sono interrogato su quello sei due persone contemporaneamente sei padre di famiglia buono di qua e di là sei duro e freddo quello è diavolo diavallo di visione l'anima si strappa come fai a scendere in questa maniera perché perché è difficile ragazzi perché essere imprenditore e dover chiudere a fine anno i conti e che magari non funzionano che magari non ci sono i soldi e dire non ci sono i soldi ti mando a casa oppure c'è qualcosa che non funziona dire hai sbagliato bisogno che tu lo faccia bene è difficilissimo e allora per proteggerti umanamente devi essere duro perché è difficilissimo riuscire a rimanere sempre empatico a spiegare il perché ad avere la pazienza è difficilissimo è un'impresa eroica proprio e io ho cercato di fare quello cioè di trattare le persone che lavoravano con noi come se fossero i miei figli o i ragazzi della parrocchia ecco poi abbiamo avuto la fortuna sono entrata in azienda che c'era una persona sola quindi le persone che entravano con noi mangiavamo assieme stavamo assieme andavamo a bere la birra assieme ancora oggi i miei noi una volta al mese facciamo le feste insieme andiamo a mangiare assieme al ristorante cioè non c'è quella divisione tra imprenditore e gli operai mio fratello tutto il giorno in produzione quindi la prima cosa è questa cioè capire chi sei tu primo punto e poi la cosa era questa io so che vivrò una volta solo nella mia vita e io voglio una vita bella e dato che la maggior parte del tempo la passiamo al lavoro io voglio otto ore di lavoro bello sereno piacevole non dico divertente ma rilassato no rilassato lavoriamo duramente e noi ci facciamo un mazzo così e noi siamo formula 1 però alle 5 chiudiamo però nessuno alza la voce ma nessuno manca rispetto a nessuno cioè si può essere molto molto esigenti dalle persone perché capite che se il cosmetico deve arrivare al consumatore con l'etichetta dritta e il tappo ben chiuso io non posso accettare che qualcuno mi etichetti le etichette storte o lasci il tappo aperto perché poi il cliente non mi paga e chiudiamo quindi noi siamo i clienti sono esigentissimi ma essere esigente da un ragazzo che è appena arrivato e dire guarda che tu il tappo lo devi chiudere bene lui magari non lo chiude bene non ti permette di insultarlo o di trattarlo male però ti dico chiaramente con educazione che se tu non riesci a chiudere il tappo bene 30 tappi al minuto come fanno tutti i tuoi colleghi tu vai a casa mi spiace perché altrimenti mi costi più di quello che guadagniamo è andato di fatto il mercato ragazzi e mentre una volta eravamo noi europei con la pancia piena i cinesi e gli orientali morivano di fame oggi che anche loro vogliono avere il diritto di mangiare qualcosa di più di una ciotola di riso al giorno e si sono messi a lavorare o noi ci diamo una sveglia qua in Italia o chiudiamo allora gli italiani o competiamo sulla qualità sul valore aggiunto ma le aziende che stanno chiudendo che fanno prodotti che non hanno valore aggiunto e bulloni o altro o gli italiani a parte che abbiamo un costo di lavoro che è dieci volte quello cinese per cui già stiamo in perdita ma in più se abbiamo delle persone che no con calma non mi stressare io ho avuto dei ragazzi che hanno dato le dimissioni perché a giugno vuole andare in vacanza con gli amici che mi dice sai io tutti gli anni andavo in vacanza con gli amici ho detto andavi adesso sei grande lavori noi facciamo tre settimane ad agosto lui dice non ho io i miei diritti però io non neanche discuto in quel caso lì ho detto senti vabbè se vuoi stasera se vuoi andare in vacanza stasera vieni mi dai le dimissioni poi ma in vacanza a giugno che ho tu amici ma se te nemmeno non ti riassumo più ha dato le dimissioni perché la pancia piena veremo sbranati io dico sempre ragazze dell'università veremo sbranati dagli altri allora o abbiamo intelletto o abbiamo cultura o abbiamo arte valore aggiunto oppure ma dobbiamo farci un mazzo così i genitori stanno crescendo generazioni di ragazzi infelici dove gli dicono che i soldi sono la felicità la macchina grande la felicità stare sul divano è la felicità non gli insegnano il dovere delle cose la fatica la perseveranza la pazienza capite allora è lì l'educazione che determina poi quello che siamo perché un'azienda non diventa etica così da un giorno all'altro è l'imprenditore che è etico ma l'imprenditore non è che da un giorno all'altro diventa etico è stato educato in una maniera ma anche l'educazione io dico sempre dove sono gli insegnanti che si prende l'insegnamento a scuola è una vocazione parrocchia dove sono i Don Bosco io ho dei preti che da mettersi le mani nei capelli dove pensano soltanto a celebrare se ne fregano dei ragazzi non li vanno neanche a cercare sono i preti che escono dal loro ufficio a cercare i ragazzi a ricordarsi come si chiamano a capire i loro problemi a fargli vedere che gli vogliono bene e poi dove sono i genitori come facciamo a cambiare una società così se ci mancano queste basi capite? mi sono dimenticato la domanda ah perché non lo fanno ecco scusami e quindi questo vorrei sentire anche se ci sono altre domande che io mi sono intromessa perché è presa dal fuoco di fila però vedo che ci sono delle mani alzate e poi magari c'è qualche domanda quindi magari poi dopo risponde insieme alla mia pseudo domanda e a quelle che vengono sentiamo quelli collegati che hanno alzato la mano e poi se c'è qualcuno in aula possiamo partire o chiamate voi vai allora io sono mi chiamo Ketty sono una docente di religione delle scuole medie e da tre anni all'interno del mio si sente poco puoi metterti più vicino più vicino al microfono non si sente bene sì dicevo così va meglio parla forte allora dicevo che io sono mi chiamo Ketty e sono un'insegnante di religione delle scuole medie e da tre anni sto portando avanti un percorso di economia etica all'interno dell'educazione alla cittadinanza sono in collegamento con lo piano con la Beatrice Cerrino che mi manda del materiale e vedo che i ragazzi sono molto molto interessati vengono fuori delle belle cose però ci manca un collegamento anche con le aziende come voi che sia per una testimonianza anche diretta no? a cui i ragazzi possano fare domande io parlo già dalle medie perché sono veramente in grado di capire questo tipo di percorsi e sia anche offrire perché ora con i collegamenti multimediali le distanze si sono molto molto abbreviate quindi offrire anche dei piccoli percorsi da poter riprodurre all'interno delle scuole voi fate niente in questo senso? sì 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 io passo più tempo nelle università in giro a raccontare che è da altre parti però se vuoi prendi contatto con l'IPEC nazionale c'è il sito e fai richiesta e a IPEC c'era nella slide quella dell'economia civile a Ancona Imola Perugia Empolicomo è l'associazione dell'economia è l'associazione degli imprenditori della scuola di economia civile sì grazie Domenico Dattoli se non c'è Domenico Dattoli Riccardo Rossi ha alzato la mano sì buonasera mi sentite? molto bene niente grazie di questa entusiastica presentazione e mi domando però un'impresa chiaramente ha dei problemi e un modo di organizzarci sul versante della produzione però c'è anche il versante della vendita quindi la commercializzazione vorrei sapere un po' su questo aspetto come vi muovete e cosa come fate a stare sul mercato grazie allora noi in realtà nel modello attuale essendo terzisti i nostri clienti sono avete visto le aziende che vengono a noi comprare io non sto sul mercato B2C che vuol dire to consumer cioè io non vengono direttamente ai consumatori ma vendo alle aziende io vendo perché siamo bravi siamo molto molto bravi e abbiamo un livello lavoriamo con Unilever lavoriamo con multinazionali di tutto il mondo perché siamo bravi investiamo in ricerca e sviluppo facciamo innovazione altissimi standard di qualità siamo esigentissimi in azienda ecco questo voglio dirvi però stiamo sul mercato perché abbiamo delle persone eccellenti le aziende d'eccellenza sono fatte da persone di eccellenza e lì la scelta è adesso non so se la domanda era questa però la scelta è prendo chiunque prendo anche la persona incapace svogliata che non lavora perché ho dovere di dare occupazione e prendere chiunque prendo tutti i miei amici disoccupati che faccio la risposta è no perché noi come imprenditori assumo mio figlio incapace che non sia neanche laureato lo metto in azienda per proteggere troppo per valore della famiglia la risposta è no come imprenditori noi siamo custodi dell'azienda e io devo tutelare il posto di lavoro delle 59 persone che lavorano da noi e non è giusto che metto il mio amico soltanto perché disoccupano io metto le persone se sono competenti poiché sia mio amico o no non mi interessa mio figlio entrare in azienda se sarà competente non perché mio figlio ok e purtroppo ho dovuto dire tantissime volte no no perché perché se io metto persone mediocre incapaci o non preparate non siamo più un'azienda di eccellenza e e ne risentono poi anche tutti gli altri in un senso di giustizia sul mercato devo dirvi che ad esempio la linea dottoressa Reinaldi che avete visto perché noi siamo Reinaldi conto terzi ma c'è dottoressa Reinaldi con le Y che è il marchio che mia madre aveva quando aveva fondato ecco lì trovate la linea del Burkina Paso e voi sapete che quando comprate uno di quei prodotti buonissimi aiutate il progetto del Burkina ecco sappiate che è la linea più venduta da noi perché a oggi tutte le aziende puntano sugli impatti ambientali diciamo siamo sostenibili ambientalmente perché perché hanno messo dato che vogliono vendere di più cercano qualcosa da raccontare di sostenibile per vendere di più questa plastica è reciclabile ok perché perché è più facile ma in realtà le statistiche dicono che i consumatori sono più sensibili agli aspetti sociali solo che gli aspetti sociali sono difficilissimi cioè non è che compro le polo e aiuto l'orso bruno l'orso bianco oppure ti do un centesimo questo sì sui progetti sociali è un po' così ma capite quanto sono distanti da quelli che stiamo facendo noi cioè fare un'economia che vi dicevo che genera un profitto dignitoso e contemporaneamente genera benefici sociali e ambientali non faccio profitto e distruggo l'ambiente o faccio profitto e impoverisco le persone oppure faccio profitto poi do qualche soldino a qualcuno no no faccio un sistema economico che contemporaneamente genera profitto e beneficio sociale e ambientale questo è il futuro si può fare mi permetto di aggiungere una cosa se mi sentite sì io ero più sul versante il profitto diciamo corretto giusto diciamo così tra virgolette è dato da due da due fattori no dal costo di produzione e dal ricavo dalla vendita allora dico i ricavi dalla vendita li fissate voi partecipate con delle gare ci sono dei prezzi di mercato che imponete oppure è un problema di libero mercato siccome siete bravi vengono a comprarvi a qualche altro prezzo oppure cose diverse ecco voglio sapere un po' questo aspetto qui ma grazie allora in un mercato libero il prezzo di vendita è terminato dal mercato e dalla competizione qual è la questione giustamente che il ricavo l'utile è la differenza tra i costi che sono sempre quelli e il prezzo di vendita il mercato riconosce i prezzi di vendita in funzione del rapporto qualità prezzo quello che vi dicevo prima cioè tenete con adesso non voglio andare nel tecnico diciamo che l'utile prima delle imposte ok si chiama EBITDA è interessante perché voi dovete guardare non le aziende per il fatturato che fanno ma per l'utile allora c'è EBITDA su fatturato due aziende che fanno tutte e due 100.000 euro però alla fine una ha 1000 euro di utile l'altra 50.000 euro di utile fanno stesso fatturato allora questo rapporto è importante le aziende cosmetiche terziste italiane hanno un ROS EBITDA su fatturato di 3.5 vuol dire che per ogni 100 euro di vendita gli rimane 3,50 euro di utile antimposte noi abbiamo 15 quel 15 lì che è 4 volte la marginalità delle altre aziende nella media di settore è fatto perché perché innoviamo perché facciamo prodotti di altissima gamma diamo dei servizi altissimi e chi vuole lavorare con me mi deve pagare di più ma non mi paga di più perché gli dico che sono di economia civile perché divido gli utili perché sono buono perché progetti in Burkina lo faccio perché lo fanno perché gli do un prodotto migliore tutto qua ok quindi per riuscire ad avere utili perché non basta essere buoni bisogna avere utili per distribuirli perché dei miei amici che sono buoni buonissimi non fanno utile quindi non distribuiscono nulla e mi dicono non neanche i soldi per pagare gli straordinari si guardano tutti assieme anche delle cooperative vabbè ma sono del è brutto dirlo sfigati se permettete di nuovo cioè non funziona così ci vuole intelligenza fare prodotti ad alto valore aggiunto che servizi di qualità puntualità mettere le etichette dritte ok un mercato ormai spietato è la globalizzazione signori eh allora bisogna stare sul mercato ed essere migliori del mercato per avere utili per poterli ridistribuire ok e quindi bisogna essere molto esigenti quindi il il stiamo sul mercato i ricavi delle vendite sono determinati dal prezzo di mercato non non puoi inventarti di più non è che io vi dico alcune statistiche dicono che i consumatori sono attenti ai temi della sostenibilità in fase d'acquisto e sono disposti a produrre ad acquistare prodotti sostenibili voi sareste disposti ad andare sul sito dottoressa Rinaldi a comprare prodotti Rinaldi se non hanno un costo d'acquisto superiore al 10% in più perché io vi dico questo prodotto è normale questo è sostenibile ma questo costa 5 volte di più bello ma non lo compro normale no? la capacità anche di realizzare i prodotti che abbiano dei valori intrinsechi sociali e ambientali ma che però non costino non più del 10% ovviamente poi il mercato non te lo riconosce e non ti acquista Domenico Dattoli e poi se c'è qualcuno anche in presenza Domenico hai alzato la mano eppure è un errore almeno con lo spento per cui presumo sia un errore che ha fatto un errore lui c'è nessun altro che vuole ecco ci sono altre due mani alzate Francesco Rinaldi allora sì sarò brevissimo perché l'esposizione è stata entusiasmante ricchissima di informazioni che si portano a porre una domanda voi avete pensato oppure nell'AIP questa associazione di costruire dei distretti cioè di incominciare a pensare oltre che a produrre il benissimo che state facendo incominciare a fecondare il territorio attraverso la crescita di incontri di partecipazione di collaborazione con altri piccoli imprenditori da far diventare grandi e creare quindi una dinamica di distretto che poi potrebbe essere la carta vincente soprattutto nei momenti in cui c'è da forzare su cambiamenti produttivi su interventi nei mercati diventa una forza d'impatto maggiore dove quello che viene regolato non è soltanto un prodotto che già è molto di grande qualità ma è un progetto di vita produttiva un progetto di vita sociale cioè si fa cultura attraverso l'azienda grazie dunque distretti non ancora diciamo che l'associazione è abbastanza giovane ispira molto le persone e quindi oggi non esistono dei distretti esistono del però in ogni regione delle aziende che partecipano all'IPEC il problema vero è che questo modello nostro funziona se c'è altissima capacità e preparazione tecnica non ci si improvvisa e poi tantissima anche volontà di perseguire un cammino sociale cioè sappiate che dare 200 distribuire 200.000 euro che di fatto erano miei cioè dei soci non è l'ho fatto perché avevano detto lo facciamo e lo facciamo però è molto umanamente è difficile ok e quindi ricordatevi che è più facile che passi un cammello della cruna di un ago che è un ricco ed è molto molto difficile purtroppo è molto molto difficile è molto difficile prima di Gambassi c'è una domanda qui in presenza prego prego può venire qui magari perché almeno per la registrazione resta se la tripellazione dell'artico è stata comunque autorizzata a bloccare una ditta e non bloccare la base serve a poco numero uno numero due fin quando tutti i cestini saranno pieni di bottigliette di acqua minerale mezza bevuta e mezza no e fin quando ogni bicchiere di cocktail avrà un paio di cannucce che se ne potrebbe fare almeno anche tutto questo è uno scoglio su cui ci si infrange anche perché sono cose totalmente inutili un'altra cosa visto che lei si occupa di prodotti di bellezza bisognerebbe sapere quali usano la sperimentazione sugli animali e quali no queste cose finite allora poi per quanto riguarda lo stato gli stati eccetera gli stati hanno ragioni diverse da quelle ecologiche o da quelle sostenibili per andare o no d'accordo l'uno con gli altri e anche questo è abbastanza difficile poterli noi combattere l'ultima cosa che volevo dire è questa il mio bab era un piccolo imprenditore di foggibonti mobile del legno nessuno di loro era laureato perché quando avevano vent'anni è scoppiata la guerra però negli anni negli anni settanta hanno fatto la scuola del legno insegnando non so come entrarono in contatto a un paese africano a un gruppo di persone che poi furono rimandati a casa con i macchinati regalati quindi questo mi fa piacere dirlo vediamo se sono in grado di dare delle risposte allora rivelazioni allora attenzione che le leggi sono diversi dall'economia cioè ci sono alcuni aspetti quelli sociali delle persone le leggi la finanza oggi la finanza sui paradigmi di sostenibilità sta cambiando a una velocità pazzesca e sul discorso delle trivellazioni la finanza è così avanti che non ha finanziato quel progetto mentre le legislazioni quindi i governi sono ancora indietro stanno recuperando molto avete visto tutte le proposte tutto quello che sta succedendo con il nucleare la tassonomia europea e altro quello che devo dirvi è questo che ci vuole saggezza in ogni cosa anche in questo momento con la proposta sapete che c'è l'obiettivo di raggiungere la riduzione del 55% delle emissioni rispetto alle emissioni del 2019 entro il 2030 quindi auto elettriche avete visto tutto questo sapete qual è il problema che se arriveremo lì se arriveremo lì in realtà ci sarà un cambiamento così drastico economico che avremo dei problemi sociali pazzeschi disoccupazione e povertà dove di nuovo perché guardano la sostenibilità ambientale ma è da sciocchi perché vi ho detto che la sostenibilità è quando contemporaneamente c'è la sostenibilità ambientale sociale economica stiamo andando contro un muro rispetto alle politiche che hanno i governi identificato adesso perché perché sono concentrati soltanto sui cambiamenti climatici e quindi drasticamente o giustamente dobbiamo andare lì ma attenzione che la sostenibilità sociale ci deve essere contemporaneamente altrimenti i fette grossissime nel nostro paese avranno dei problemi pazzeschi veramente quindi dovranno sicuramente riorientare questo e ci vuole saggezza ci vuole equilibrio ed è difficile molto difficile sul secondo punto delle cannucce assolutamente sì siamo in un mondo di consumismo vi racconto che Patagonia che è quel produttore di abbigliamento americano che è una B Corp super sostenibili loro sapete cosa hanno iniziato a dire se andando nel bosco ti buchi la giacca strappandotela con un ramo non buttarla via non venire a comprare un'altra vieni da noi e noi gratuitamente te la ripariamo perché l'abbigliamento e la moda sono uno dei settori che hanno impatti ambientali più dannosi al mondo ok questo è cioè perché perché non c'è come prima scelta quella del profitto butta via e compra di nuovo un'altra ma dire che senso ha c'è un buchino tu lo riparo perfettamente ok e quindi dobbiamo imparare a essere un po' più essenziali perché mi ricordo mio nonno andava a lavoro in bicicletta avevano il cellulare avevano la televisione in bianco e nero avevano il duplex non so chi di voi se lo ricorda erano felici ora i ragazzi hanno tre cellulari la macchina la moto e sono infelici siamo pieni di roba inutile cioè se l'obiettivo è la crescita economica a me va anche bene ma la crescita verso dove dove cavolo stiamo andando che cosa dove vogliamo crescere perché vogliamo crescere e poi sapete che il pil monitora la crescita economica se io faccio un buco e lo ricopro ho aumentato il pil se io costruisco una bomba aumento il pil ok costruisco un fucile aumento il pil cioè anche le metodi le metriche di valorizzazione sono sbagliate si parla di BESS adesso che invece è l'indice della felicità però il terzo punto cosmetici da sei anni in tutta Europa è vietato i tè sugli animali quindi mentre in precedenza si facevano tè sugli animali prettamente i farmaci e poi alcune materie prime quando scadeva il brevetto venne usate anche in cosmetica ma ormai da saranno 7-8 anni e sono vietati qualsiasi test sugli animali mentre invece i cosmetici che devono essere importati in Cina devono obbligatoriamente essere testati su animali tant'è che alcune multinazionali no ma alcune aziende non vendono in Cina perché altrimenti sarebbero obbligate a testare i loro prodotti sugli animali penso di aver risposto a tutto parola a Simone Gambassi preghiamo di fare domande brevi in maniera tale sì grazie mi sentite? o gli altri che vogliono fare domande grazie sentite? mi sentite? sì 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 allora anche io volevo ringraziare Massimo per la sua testimonianza due domande la prima è questa voi applicate gli stessi criteri di selettività che usate per i fornitori immagino e anche per i vostri collaboratori o anche per i vostri clienti questa è la prima domanda la seconda è questa secondo te il sistema scolastico italiano per arrivare a formare persone adeguate a tutto ciò che tu ci dicevi di che cosa ha bisogno in particolare quindi capisco ovviamente credo che sia d'accordo con me nel riconoscere che non è adeguato stanta la situazione qual è la cosa più importante o quelle due tre cose più importanti che necessitano il sistema scolastico italiano educativo quindi io parlo anche dell'università ovviamente ma anche delle scuole diciamo delle primarie e secondarie grazie grazie allora lui è massimo io sono Marco comunque va bene se scherzo allora primo punto sì in azienda proprio dunque lo stiamo facendo l'abbiamo già fatto lo presentiamo martedì noi abbiamo presentato ai commerciali un codice etico che chiederemo ai fornitori di firmare perché ricordatevi che gli impatti aziendali non siamo isole ma siamo catene di fornitura per cui dire io sono buono non inquino seguo tutte le regole poi però un terzista in Tunisia che fa lavorare i bambini di 15 anni sottopagati e inquina non va ci prendiamo in giro è sempre quel greenwashing che vi dicevo prima allora se io voglio essere coerente imponiamo un codice etico con delle regole sia alle persone che lavorano con noi sia ai fornitori ma anche ai clienti io ho scritto adesso qua non ce l'ho ma potrei far vedere il codice etico io con certi clienti non ci voglio lavorare me lo posso permettere noi cresciamo molto abbiamo grossi margini e io l'uso perché siamo molto bravi di dire a alcuni clienti non ho piacere di lavorare con te l'abbiamo già fatto ok? il rispetto le relazioni le relazioni io con certe persone non ci lavoro ok? quindi sicuramente sì il codice etico è allargato a tutti perché? perché perché siamo tutti interconnessi siamo uomini che facciamo prodotti per altri uomini e non posso dire io faccio noi facciamo secondo sistema scolastico sì allora il sistema italiano è bravissimo a insegnare non educa non educa educere vuole mettere fuori il meglio dai ragazzi ispirarli valorizzarli conoscerli per nome prendersi cura guardarli negli occhi informare insegnare vuol dire ti ficco dentro ma ragazzi non hanno bisogno di informazioni ormai il modello di informativo non funziona più c'è internet c'è google è insignificante quello che facciamo il ragionamento il senso critico la capacità di dialogare manca completamente nella scuola io vorrei che gli insegnanti che si rifiutano di essere giudicati come se fossero tutti siamo giudicati a questo mondo meno gli insegnanti e qualcun altro siamo pieni di cassa scusate se ci sono gli insegnanti però ho quattro figli mi permetto di dirvelo non è perché un insegnante sa bene la storia che può insegnare la storia c'è una capacità relazionale di fare attenzione ai ragazzi quelle persone non devono stare con i ragazzi fanno più male che bene non è perché io gioco bene a tennis che posso diventare un maestro di tennis conosco eh ma dobbiamo educare la cura delle persone certe persone non vanno bene per la scuola mentre tutti quanti ma è andato è andato no 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 non sto dicendo di valutare però anche fra le persone non tutti possono fare tutto eh da noi in azienda in manager chiunque viene giudicato secondo i risultati che fa io e io non sto dicendo non sto poi non entriamo nel dettaglio però la questione è che anche voi lo sapete a oggi il sistema italiano è utilizzato anche la sanità a volte dovete ricordarvi che prima prima di tutto purtroppo la costituzione è stata fatta quando c'era un senso del dovere così forte che la costituzione è piena solo di diritti ma perché perché le persone dentro avevano un senso del dovere così forte che davano per scontato ora dai ragazzi in giù in su chiunque parla di diritti allora prima del diritto dell'insegnante c'è il dovere verso i ragazzi parlo degli insegnanti ma potrei parlare dei politici potrei parlare della polizia di chiunque degli operai dei sindacati degli imprenditori parlo di tutti mi ci metto io per primo ma se noi diciamo i miei diritti no la scuola è fatta per gli studenti non per gli insegnanti gli ospedali sono fatti per i malati non per i medici allora se confondiamo la scuola come bacino di lavori per tenere dare stipendi e un conto mentre invece la scuola deve essere la casa degli studenti dove prima c'è il diritto c'è il dovere verso gli studenti poi il diritto degli insegnanti ma lo dico su tutti è normale abbiamo dimenticato il senso del dovere del dovere io ho degli operai anche pensate ma soprattutto gli italiani vengono i ragazzi che non hanno il senso del dovere il senso della parola dell'impegno perché nessuno gli ha insegnato i genitori la scuola i preti che sono i tre ambiti adesso parliamo di scuola non vorrei ma parliamo anche delle imprenditori è uguale cioè l'imprenditore prima di tutto ha il dovere verso le persone che lavorano in azienda io ho la vocazione devo custodire l'azienda dei doveri verso l'azienda non posso prendermene al cinema usare i soldi per le mie cose perché prima di tutto è la custodia dell'azienda e delle persone che lavorano con me prima dei miei diritti Domenico Dattoli sarebbe l'ultimo che è iscritto a parlare a fare una domanda Domenico Domenico nel frattempo qui in aula c'è qualcuno che vorrebbe fare un commento o una domanda? se Dattoli vuole può scrivere la domanda se non gli funziona il microfono quello che posso dire per gli studenti questa nuova economia è un'economia che alle persone buone può dare una speranza di non essere quei prenditori ma essere veramente una vocazione per l'impresa generatori di beneficio perché da una parte la Commissione Europea dice che le aziende sostenibili hanno risultati di esercizio del 10% superiore alla media quindi conviene economicamente secondo siamo al servizio della comunità un'azienda che funziona genera beneficio per tutta la comunità terzo perché vivo bene e sono felice quindi perché gli studenti dovrebbero dirgli esistono questi nuovi modelli e funzionano e ti fanno essere felice e puoi essere orgoglioso di quello che fai ecco questo è una bella un bel messaggio siamo in chiusura ma ho una piccola curiosità Marco Piccolo personalmente dove ha trovato le strade per acquisire le competenze per acquisire questa questa filosofia di fondo sull'impresa sulla sostenibilità eccetera che così chiudiamo fra quello che la scuola dovrebbe dare e l'esperienza tua qual è stata io leggo tanto e quindi mi formo quello che dobbiamo dire della scuola e delle persone che lo dico agli studenti quando voi finite la scuola da lì iniziato a studiare cioè la scuola ti dà una conoscenza generale ma io studio tutti i giorni cioè per millenni l'economia è rimasta uguale mio padre era contadino mio nonno contadino non sono contadino mio padre artigiano io artigiano se voi guardate l'innovazione tecnologica è esponenziale cioè mia figlia che ha 14 anni quando inizierà a lavorare l'80% dei suoi compagni farà lavori che oggi non esistono quindi la domanda che lavoro farò da grande è sbagliata perché la domanda è che lavori farò non esisterà più come voi che se avete entrato avete fatto un lavoro e basta ma il mondo cambierà così velocemente che ogni persona bisogna fare lavori differenti per far lavori differenti bisogna continuare a studiare essere sempre preparati perché il mondo si evolve così velocemente che stare sulle proprie competenze è impossibile in un mondo del lavoro dove c'è competizione viene tagliato fuori i posti fissi ce ne saranno sempre di meno però anche chi sta a un posto fisso la vocazione è quella di studiare sempre e di innovare e di tenersi al corrente perché il mondo cambia sempre più velocemente bene se non ci sono altre curiosità io chiuderei qui ringraziando ancora Parco Piccolo per questa cosa così spumeggiante di stasera e sulla quale mediteremo e ringrazio tutti per la presenza da vicino e da lontano arrivederci a giovedì prossimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti